Li ascolteremo dal vivo, loro sono uno dei gruppi più fondamentali e importanti della musica rock, sono i Cream, un gruppo che non solo fondamentale ma soprattutto tra i più innovativi in assoluto. Si formano nel 1966 e dal 67 questa crema di musicisti, diciamo i migliori nel loro genere, tra i migliori sicuramente ognuno nel loro strumento, chitarra, chitarra a basso e batteria. Diventano popolari ovunque, in tutto il mondo, in tre suonano come fossero veramente un'orchestra. Loro sono Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Rivediamo in un filmato dal vivo, molto interessante, del 1968, nella loro versione di un classico, ovvero Crossroads, un classico appunto del blues degli anni 30, di Robert Johnson. Quindi Crossroads, the Cream! I went down to the Crossroads, fell down on my knee. Down to the Crossroads, fell down on my knee. That's all I love for mercy, baby, if you please. I went down to the Crossroads, tried to make it right. Down to the Crossroads, tried to make it right. Nobody's shavin' on me, nobody's passin' on me, nobody's passin' on me. When I'm goin' down to Rosedale, take me right up by my side. Going down to Rosedale, take me right up by my side. You can still buy the house, baby, or the Riverside. That's all I love for the Rings, baby. streamlined, in case she won't do anything room now. Come down to Rosedale, take me right up by my side. Come down to Rosedale, take me right up by my side. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti